Io mi ricordo che avevo detto che mi piacevano le ciliegie, mi hanno prelevato, mi sono anche un po' spaventato, mi hanno portato in mezzo a un bosco, c'erano tre alberi ciliegie, avevano messo un seggiolino in cima, qui c'era la scala, mi sono seduto in mezzo, mi sono stato male sei giorni, avevo mangiato tutto, mi piacevano da morire, ero pazzo, avevo mangiato tutte così, ho fatto sei giorni sul gabinete, però questi sono i ricordi, sono cose che oggi non esistono, si può raccontare perché non esiste più, questo non esiste, era un calcio fatto di rapporti umani, era un calcio fatto di cuore, Sì, adesso senza voler fare il libro cuore, però ci erano sempre, è cambiata la generazione, è cambiata la società, è giusto che cambi, purtroppo sì, io amavo più quello di questo, però il calcio va avanti come va avanti la società. Presa con un'anime sentimento di gratitudine e di riconoscenza, converisce la cittadinanza onoraria della città di Giare al professor Giambiero Ventura, commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio, già allenatore del Giare Calcio Senegiu. Per i suoi altimeriti che hanno segnato la storia della nostra città con una immagine di prestigio e di pregio, che per i risultati ottenuti in gambo sportivo hanno fatto conoscere la nostra Giare in tutta Italia.